Lezione al Grand Sasso Science Institute del Premio Nobel per la Fisica. Kip torna, ce ne parla Edoardo Petti. Frutto di fenomeni astronomici come l'esplosione di stelle supernove e la collisione tra buchi neri, le onde gravitazionali sono le testimoni preziose della storia dell'universo, i messaggeri della sua evoluzione. La prova della loro esistenza, ipotizzata nel 1916 con la teoria della relatività generale di Albert Einstein, è stata raggiunta il 14 settembre 2015 grazie all'osservazione delle increspature create nel tessuto dello spazio e del tempo a distanza di miliardi di anni luce, realizzata con il rilevatore statunitense Ligo e quello europeo Virgo attivo vicino Pisa. Tra gli artifici del programma scientifico, che coinvolge centri di ricerca come l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e costituisce il terreno peculiare di studio del Grand Sasso Science Institute, vi è il fisico teorico del California Institute of Technology Kip Torn, premio Nobel nel 2017 con Rainer Weiss e Barry Berisch. Galileo 400 anni fa ha inventato in un certo senso l'astronomia elettromagnetica, puntando il proprio telescopio per la prima volta alle lune di Giove. L'astronomia ad onde gravitazionali mi aspetto che cambi il nostro modo di vedere l'universo tramite l'osservazione di buchi neri massicci e cose simili, nello stesso modo in cui Galileo ha cambiato il modo di vedere l'universo grazie all'elettromagnetica. Collaboratore degli scienziati Stephen Hawking e John Wheeler e autore del saggio divulgativo Buchi Neri e Salti Temporali, lo studioso ha teorizzato la presenza nelle galassie di cunicoli attraverso i quali sarebbe ipotizzabile viaggiare a una velocità più elevata rispetto alla luce. Tema che esercita da tempo un fascino profondo, come mostra il libro Contact scritto dal fisico Carl Sagan e il film di fantascienza Interstellar, di cui Thorne è stato consulente scientifico.